credete sia adeguato per Versailles benvenuta a Versailles, Delfina il tuo compito è dare alla luce il suo erede non passerà molto prima che lei dia alla luce tuo figlio e se non accadrà? non sono pronto a essere padre voi credete di essere qualcuno, è così? io sono qualcuno io sono vostra moglie! quando sarete mio marito? se è la favorita del re dovreste essere l'amica sta tramando per destituire tua net è questa la verità? è tempo di prendere la verità? darò una decisione mio caro